Che cosa vogliono le aziende quando vogliono utilizzare i video, i video aziendali, i video promozionali, i video spot, gli spot emozionali, il storytelling? Cosa ci si aspetta dall'utilizzo corretto? Cosa significa corretto? Che risponda alle esigenze di marketing delle aziende, perché sì, è vero che le aziende vendono, ma non solo, c'erano aziende che devono fare delle operazioni di brand awareness, cioè di diffusione del loro brand, di afforzamento, di visibilità, ma effettivamente a noi ci piace chiedere di più. E quindi mi sono chiesto qual è l'obiettivo massimo che può chiedere un'azienda? Vendere di più? No. Siamo un po' più pretenziosi. Beh, anche vendere di più. Conquistare nuove quote di mercato? Vendere di più? No, ma certo, ma il vendere di più, se poi comunque anche gli altri vendono di più, è un vendere di più tutti. No, perché magari sei in un trend. In realtà vorrebbe vendere di più e gli altri no. Quindi in realtà acquisire quote di mercato, cioè quella categoria di prodotto acquisirla sempre di più. Io ho raccolto in tutti questi anni di attività un elenco di risultati che le persone, diciamo, responsabili di marketing, ma anche i titolari di aziende, si aspettano. Ad esempio, o mettere la visibilità, come hai detto te e Jenny, far conoscere anche un nuovo prodotto, abbiamo una nuova collezione e dobbiamo lanciarla, dobbiamo partire. Oppure possiamo invitare all'acquisto, o invitare lo spettatore, il pubblico target, a fare un'azione, a tirare la loro attenzione. Prima di, di solito no, prima di comunicare qualcosa devi avere la sua attenzione. Quindi prima di tutto avere la sua attenzione. In alcuni casi proprio staccarsi dal mercato, quindi emergere rispetto all'offerta, rispetto ai concorrenti, aumentare la fiducia che la loro community nutre nel loro brand. Oppure banalmente anche mostrare le cose, spiegare il funzionamento. Cosa che, ad esempio, i video tutorial hanno fatto in maniera egregia. Se pensiamo che una volta bisognava, in alcuni casi si fa ancora, mandare il tecnico specialista dall'altra parte del mondo per spiegare come installare quel macchinario, adesso basta un video tutorial con un abbattimento di tempi e costi notevole. Però io provoco sempre chi arriva da noi e ci chiede queste cose. Perché naturalmente, sì, è vero, tu puoi ottenere tutto questo, ma nessuno ti vieta di alzare l'asticella.